Qual è, nelle mie intenzioni, il tipico follower della playlist? Io ci vedo o chi non ha mai provato a programmare, ma è molto intrigato dalla cosa e non sa da quale linguaggio partire. E dà ragione, perché il rischio è di andare a sbattere la testa contro un mattone come il C++, che è certamente un buon linguaggio, ma non il più adatto per iniziare a programmare. Python? Sì, dovrei pronunciarlo Python. Invece, da questo punto di vista, lo metteremo quantomeno alla prova, è un po' come il C++, si è subito operativi, ma a differenza del C++, una sintassi più snella e più semplice da controllare. E penso che il primo approccio di questi esploratori non debba negare una spiegazione sistematica. Una playlist di primo livello dovrà quindi procedere soprattutto per esempi e gli aspetti sintattici del linguaggio dovranno emergere in modo naturale proprio da questi ultimi e riguardare solo aspetti fondamentali. Per i dettagli ci potranno sempre essere, in caso di successo, altre playlist. E attenzione che dietro i motivi dell'adduzione di un linguaggio c'è di più che la semplice forza brutta nel fare i calcoli. È innegabile. Un linguaggio compilato da avere un linguaggio macchina come il C++ può essere anche decine di volte più veloce del corrispondente algoritmo codificato in Python. Ma ci sono una marea di campi applicativi dove il tutto è ampiamente bilanciato e forse qualcosa anche di più dalla facilità di sviluppo che si traduce poi in velocità di sviluppo e anche conseguentemente in costi di sviluppo. Teniamo conto anche di quanto sia incredibilmente più facile avvicinare uno scienziato o un non informatico di natura alla programmazione con questo linguaggio rispetto alla ripida curva di apprendimento di linguaggi proprio come il C++. Quindi può essere davvero un vantaggio usare Python. Altrimenti spiegatemi questo. Spiegatemi perché realtà come Yahoo o Google giusto per rimanere in tema di web development o sciocquezzuole come la NASA le utilizzano come strumenti interni alla pari di molti istituti per le ricerche meteorologiche o di biologia o di matematica sì, Python è molto amato dagli scienziati ma anche dagli sviluppatori di videogame perché è un ottimo linguaggio di scripting interno pensiamo a giochi come Battlefield, Civilization e spostiamoci solo un po' più in là nell'industria cinematografica Industrial Light & Magic vi dice qualcosa? Dovrebbe dirvi molto è il motore di tutte le animazioni, la grafica e gli effetti speciali della maggior parte dei film di successo Guerre Stellari, Jurassic Park, il recente King Kong, Transformers, gli Avengers e solo per ricordarne alcuni bastano? Penso di sì e questo pone una bella pietra tombale sul dubbio ma potrò poi sfruttare per qualcosa di utile Python è veramente usato e qui è chiaro adesso perché l'altra figura potenzialmente interessata a questa playlist sono io, già conosco più linguaggi Python sta guadagnando però sempre più consensi è tra i più richiesti insieme a Java, C++, C Sharp, JavaScript perché? Che cos'ha di speciale? Ecco allora che una agile panoramica può iniziare a dare una risposta che voglio subito volgere all'operativo per cui affrettiamoci ad installare gli strumenti software necessari per programmare in Python per prima cosa andiamo a questo indirizzo a scaricare il Python in sé non so se il sito abbia penso di sì, dedotto in automatico che il browser sta funzionando in ambiente Windows e quindi mi propone in primo piano proprio questa versione in ogni caso è facilissimo trovare qua sotto diverse piattaforme tra cui sicuramente troverete la vostra io vi consiglio la versione del ramo 3.x c'è sostanzialmente un solo motivo per preferire finché non la dismetteranno la versione 2.x e cioè una libreria che per voi è indispensabile, insostituibile che magari o manca per la versione 3.x o è presente ma è in forma ancora un po' instabile con qualche bug insomma vado quindi di 3.6.2 si scaricherà nella cartella download il classicissimo exe e il programma di setup ha davvero poche opzioni io ho spuntato anche questo Add Python to PEF che dovrebbe facilitare all'editor o ai nostri comandi dalla shell il ritrovamento dei vari componenti di Python infine se come me avete parecchie ramificazioni nelle cartelle dove installate il software potete disabilitare un limite tipico di Windows di 260 caratteri per la massima lunghezza di un PEF che porta ad un file per Mac non posso mostrarvi però posso darvi qualche suggerimento che ho trovato naturalmente su internet scaricate ed eseguite il file con l'estensione .dmg apritelo con doppio clic e scegliete e lanciate il file Python.mpkg a seguire confermerete tutte le altre scelte e arrivati in fondo dovrebbe anche farvi scegliere se volete una specifica cartella per l'installazione sotto Linux dovrete accedere al terminale e l'immancabile comando sudo apt-get install Python 3 e a seguire l'installazione del modulo pip che è in pratica il gestore dei plugin dei moduli aggiuntivi delle librerie che potremo aggiungere di volta in volta al sistema Python come ambiente di lavoro potremo concederci un grosso lusso perché c'è una versione community del PyCharm di una famosa ditta che sviluppa IDE cioè editori intelligenti per diverse piattaforme di programmazione e naturalmente troverete una versione sia per Windows che per macOS che per Linux scaricate, installate e lanciate il PyCharm localizzate il comando create a new project ed usatelo tra i tipi di progetto scegliete il primo pure Python qua scegliete la posizione date un nome tipo youtube01 create sulla sinistra trovate il pannello con la vista progetto troverete quello appena creato fate clic destro per aggiungere un nuovo file Python file test o quello che volete l'estensione sarà automaticamente aggiunta tipo del file Python estensione Py eccolo che è comparso qua sulla sinistra e qui nell'area bianca andremo a scrivere i nostri comandi che poi l'interprete del linguaggio andrà ad eseguire in automatico prima di proseguire però un minimo di configurazione sotto file settings io ho scelto come tema quello scuro questo darkula siamo sotto la sezione appearance and behavior appearance poi sempre in questa sezione per rispetto ai vostri occhi mi espongo a chissà quale rischi not recommended cambio la dimensione dei font per i menu i tab perché sono quasi invisibile a me stesso immagino a voi dunque di default era 12 qua adesso è 16 apply lasciamo così vediamo in quale prezzo pagherò e anticipo una cosa che mi ha fatto un po' impazzire ma poi alla fine ho scoperto come si fa io sono abituato anche per l'editor a modificare la dimensione dei font usando il control con la rotellina del mouse ma anche questa funzionalità va abilitata torno sotto file settings editor general e qui barrate la casellina change font size zoom con control più rotellina del mouse e non dimenticatevi di confermare la modifica come test ultra rapido proviamo a far stampare il risultato di una semplicissima operazione possiamo usare il comando print stampa l'editor intelligente ci coccola ci mostra tutta una serie di suggerimenti quando è sospettoso segnala i potenziali errori e di quando in quando provvederò a spiegarvi come sfruttare i meccanismi più utili molti comandi devono essere completati con i loro si chiamano argomenti o parametri e vanno racchiusi tra una parentesi tonda di apertura a sinistra prima del primo parametro ed una parentesi tonda chiusa alla destra dopo l'ultimo parametro ogni parametro è separato dal successivo con una virgola che però non deve essere messa dopo l'ultimo il numero dei parametri dipende dalla funzione che si sta utilizzando e per una stessa funzione non è detto che siano tutti obbligatori ad esempio con il print possiamo lasciare anche la lista vuota però le parentesi aperte e chiusa ci vogliono e l'effetto sarà quello semplicemente di andare a capo alla prossima riga ma noi vogliamo specificare un'espressione che prima dovrà essere valutata calcolata per vederci restituire il risultato e quando vi spiegherò come creare i vostri comandi le vostre funzioni capirete come distinguere quali sono i parametri obbligatori e quali no e allora cosa possiamo indicare come unico parametro al print per la stampa beh un po' di tutto potremmo chiedere stampami un numero 3 scrivendo solo 3 oppure un messaggio una stringa di caratteri che andrebbe però racchiusa tra apici o in alternativa tra virgolette diversi linguaggi offrono questa possibilità e più avanti vedremo anche il perché va bene però che miseria più che un pitone qua avremmo a che fare con un pappagallo dimmi 3 3 dimmi ciao ciao qualcosa di più chiediamogli almeno un calcolino 6 più 3 ed è meglio chiarire fin da subito che bisogna andare a capo anche dopo l'ultima riga beh in questo caso è una sola e conviene anche in questo caso andare nei settings a impostare un'opzione che aggiungerà automaticamente la capo ogni volta che il file verrà salvato e quindi anche prima di essere eseguito e staremo tranquilli sotto editor general scendete a localizzare other e spuntate questo ensure assicurati che ci sia un a capo line feed alla fine del file al momento del salvataggio on save benissimo mandiamola in esecuzione troverete qua la classica pulsantiera per ambienti di questo tipo con il pulsante play che significa esegui il programma e troverete lo stesso comando qua anche run lancia manda in esecuzione test scorciatoia da tastiera la combinazione se volete impararle è shift f10 mentre siamo nell'editor abbiamo una finestra risultati interna questa che è apparsa qua sotto di output anche qui possiamo usare ctrl tellina per ingrandire e goderci il nostro risultato qui avete un'idea di quello che è stato lanciato esternamente per eseguire il nostro codice l'interprete ppython eseguibile a cui è stato dato in pasto il nostro file test punto pi è andato tutto ok infatti il nostro processo che ha eseguito il comando print è terminato finished con codice in uscita zero che storicamente sta proprio a significare tutto ok zero errori assenza di errori bene direi che per questa prima lezione ce n'è a sufficienza in dieci minuti avete imparato come scaricare tutti gli strumenti configurarli in modo essenziale e a creare il vostro primo programmino python direi che c'è da ritenersi soddisfatti nel prossimo video che potrei anche pubblicare in giornata vi spiegherò come creare un programmino esterno autonomo dall'editor da far partire con un doppio clic per fare che cosa scrivere il nome di una località magari anche la via quello che volete e alla conferma con invio far apparire una mappa dettagliata di quella località un programmone è di due righe sì avete capito bene con esattamente due righe di codice otterremo questo a risentirci grazie a tutti